Nell'ultimo episodio che ho fatto su questo gioco Ovvero il primo Avevo scritto come cosa L'incubo di Federico Hashtag primo e hashtag ultimo Si spera E invece non l'avete sperato E niente Fa talmente schifo sto gioco che manco si carichano le schermate Cioè Eravamo arrivati non so dove Perché è passato quasi un anno Oh eravamo arrivati qui Mamma mia quanto tempo senza sta roba Mi ero anche Rega Sì ma vai a quel paese ma No Bravo Botte caffè No Ma tua sorella Duomo di Milano c'è Oh Non facciamo guai Non facciamo cose strane Ok Questa parte qui No No Se cadeva ancora Mi sta scombinando tutto il tappetino del mouse Allora Questo gioco sicuramente da adesso avrò un audio migliore Perché L'ultima volta era registrato semplicemente dal computer Avevo fatto 20 minuti di registrazione pura Ce la fai a Record però eh Record Record Calmissimo No No Non cadere Ti prego Ti prego Ti prego No Ok No Quasi un anno è passato da questo cavolo di ultimi episodi di questo gioco Ma perché non sono Perché non lo potevo abbandonare del tutto come avevo intenzione di fare No Pure il secondo episodio mi chiedono di fare Bene E fin qua Ci siamo E fin qua Non ci siamo per niente Fin qua Fin qua la vita è brutta Allora per chi non ha visto il video precedente ve lo linko qua sopra nelle schede E se volete farvi due risate andate Andatevelo a rivedere No Tua sorella marshmallow Come Perché Quando Mamma allora Ti ricordi quando Quella Qua Anno Dicembre dell'anno scorso In cui io Ero venuto Ero venuto da te in cavolato nero Che ti avevo chiesto la camomilla per questo gioco Ecco C'era un motivo se non lo faccio da un anno Eh C'era un motivo Mamma chiudi la porta Come si fa da qua C'è da qua di Mamma mia come mi sono Non ci provare Non ci provare minimamente avvicinati Bravo 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 Piano 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 bravo No 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 Sì Quasi no Perché Ok Ok Facciamo completamente new game Prima vediamo se riesco Ok Oh E fin qua Tutto ok Ok No No Ai 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 No Ancora 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 Noi voglio ritornarli Dove ero prima Bene 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 Che di tutto Proprio Se vuoi Sostante di metterla Anche se non Non è importante Per la cosa Mi piace Iscrivetevi al canale Grazie a tutti E vi saluto E vi saluto Sostante di metterla 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 Sostante di metterla